Luca, benvenuto nella famiglia Crotone, sei appena arrivato, tra poco sosterrai già il primo allenamento, come ti senti a vestire questi colori? Intanto grazie per il benvenuto, sono molto contento di essere qui, sono pronto per questa nuova avventura, quindi sono venuto qui motivato e carico per dare una mano alla squadra per poter salvarci. Tu sei reddice dall'esperienza al Parma, hai centrato due salvezze consecutive, cosa serve per poter centrare questo obiettivo? L'esperienza mi porta a dire il gruppo, il gruppo secondo me è la cosa fondamentale, sono le basi per poter riaggiungere certi traguardi e sicuramente il traguardo della salvezza passa dal gruppo. Quali sono le tue principali caratteristiche? Ma insomma ormai le mie caratteristiche si conoscono tra virgolette, sono magari il dribbling, il tiro, la rapidità magari nei primi passi e poi dopo insomma cercherò di mostrarli sempre in maniera costante sul campo. Sei già sicuramente in forma, abbiamo visto che hai già disputato due partite col Parma, quindi fisicamente sei a posto? Sì sì, sono a posto, quindi appunto come hai anticipato te ho già comunque fatto due presenze, quindi sono arruolabile, pronto e carico per iniziare il campionato. A livello personale invece qual è l'obiettivo di Luca? Il mio sicuramente è di riscattare un po' l'annata passata che è stata un po' travagliata, quindi vengo qua motivato in cerca di un riscatto personale e di conseguenza poi naturalmente cercando di arrivare alla salvezza il prima possibile col Crotone. Conoscevi già qualche compagno di squadra? Ho giocato con Luca a Marrone, quindi abbiamo giocato insieme alla Sverona e poi conosco Cigarini perché comunque di Reggio Emilia è più di una volta abbiamo parlato in generale. Per chiudere un saluto ai tuoi nuovi tifosi. Ciao a tutti, come vedete sono arrivato, sono contento, sono carico, motivato e vi aspetto allo stadio appena ci saranno le possibilità. Forza Squali!